Un semplice esame delle urine per individuare la crescita di un tumore. Un nuovo test semplice e sensibile sviluppato dagli ingegneri dell'Imperial College di Londra e del MIT americano ha prodotto un cambiamento di colore nelle urine per segnalare la presenza di tumori in crescita nei topi di laboratorio. Obiettivo mettere a punto strumenti per una diagnosi il più precoce possibile che siano anche economici e semplici da usare. Il team dei ricercatori ha sviluppato dunque uno strumento che cambia il colore delle urine del topo quando è presente il cancro del colon.